hola! aspetta gri, come lo fai? non dici niente stava scherzando sono onde gri io sono sul tuo canale ma non mi dice che stai online aspetta che riprovo a cercarti, eccoti qua ok hai trovato giusto? si direi di sti cosi ucciderli direttamente mi senti gri si si allora sti cosi li uccidiamo e basta prendi la bottiglia righi ti ricordo che devi ammazzare per la testa volta di serpente esattamente, dov'era? bella domanda qua dovevo salire si è andato qua c'è la stanza chiusa no minchia ma non ricordo più è qua spero noi dobbiamo prendere le scale si andavi senza limite in là dalle scale quelle dove c'era la statua da qua? nooo mi senti pure sei pronto a prendere il pulito non do si ma intanto che abbiamo cose da prendere ancora se mi sguido devi prendere escava a destra cioè davanti a destra si guarda il respiro quelle che sono praticamente le due spalle esattamente agi a destra si ma stavolta lo infiumiamo aia dove ricarica il video come non te lo dare si è boccato aspetta che esco e rientro vai avanti tu comunque ci siamo prendo sta scena la terza volta che la vediamo andai no ma che cosa è la tua che cosa è la mia che do schioma è la prima volta è la prima volta ma se la destra era dall'altro lato perché adesso il video lo fanno vedere perché così cristo non ci puoi fare niente che poi comunque non ho capito a che cosa ci serve sta cosa ma comunque vai dov'è se non lo clicchi così lui non lo ha per libro e quindi non trovo il medaglione dentro mi ha dimenticato che non ti stavo parlando con il controller e quindi ho preso in mare il controller mi sono annunciato e sicuramente il telefono sono io a terra certo il telefono non ne fa niente si dai basta noi ci diamo tutto quello che è di nuovo piastra però questo dove stavano andare si prende la batteria perché abbiamo fatto tre volte noi abbiamo scultato ma ci possiamo passare dalla cosa la truma è il primo sale passiamo dalla cassa devi farti un po' di spazio ma se che è un documento che ci sia un racclippato per pecolino perché non mi sa che l'avamo eseguito il pecolino non mi sa che l'avamo eseguito il pecolino questi sono speciali ma si che è un'altra mollina è un po' simpatica si si rimaniamo così? si sono lì vuoi salvi? i proiettili potete eliminare quelle cose? quali proiettili? incendiare qua questi sono quelli che ho messo ora sono acidi ma lo dice più salvi va beh insomma le granate non mi verino ci prendiamo le altre cose allora dovete andare qua ma è un po' bello se no è un po' bello è giusto sì è giusto dritto o a destra? no una batteria è a di be non era lì leszanzino piccolo no vabbè lo tocco a dentro bella già bella che merdata quella che l'automale ma vaffanculo anche quello si è rialzato si ma chi con colpo di lancia granate curati da nè si si e questi li puoi già combinare così li prendono spazio combinano i con lancia granate c'è ancora roba qua dentro la batteria e che altro c'è qua dentro scusa erba forse ma come devo fare no ci sono i proiettili per tempo e che piano è addicinante non crepa si 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 ma è uno da fare è un fatto è un fatto quindi da fare i capelli come fa adesso Cazzarola L'edificio è un mancino che si trova qui Ma di che c'è? Ma di che c'è? Eh qua 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 non ha senso dove c'è il serpente Nooo Si si lo so Eh che cazzo Ma io c'ho un Eh si si Diciamo che Quando l'ho provato a fare tutto Quello di rasal Dai proviamoli Proviamo a farli rasal Ehm Assurdo Perchè in quei tempi mi preg Era uscito il film di Breaking Bad Del cammino C'era un protagonista che era Jesse Che si rilase i capelli Ehm Torniamo di nuovo La cassa Ehm Ehm Sì si Ehm Ehm Perchè Perchè non c'ho la barra Quindi non possiamo pensare Non c'è la barra Ok Dai Che diricchi Come sei? Come sei? Come sei? Come sei? Sì Beh Allora Perfettere tutti Non ti convien Ma le hai preso Non c'è la barra Non è così Non ci conviene Questa di armoni Non c'è la barra bella la... bella la... Nicola, passa! Dobbiamo aprire quella porta, quello là! No, no. Dobbiamo andare dall'altro lato. No, no. Qua si esce. Che è stata invagliata! Ma chi è questa pittina? Anche noi ragazzi vedono le cartesche che ci vuoi rispondere. Chissà c'è un amico tuo in live, vedi chi è? Chiedigli chi è. Vedi che sentono anche te, quindi una volta che hai chiesto chi è, le rispondo. Ma infatti i ragazzi, i ragazzi chi siete? C'è il ragazzo, chi sei? No, 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 no! Oh! Ma che cosa! Eh, perché posso... Posso interagire io, quindi. Ma che attenzione! Guarda! Lo vedo un mini, lo vedo qua! Cioè, dobbiamo riprendere il medaglione. Questo qua? No, no, no! 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 Ma dov'è? Non l'avevo preso! Cioè, l'avevo preso! Spero! No, no, no! No, no! No, no! No, no! Ah, se dove c'è il nuovo? Aspetta, vediamo se la pizza è con là invece! No, no! No! Alla è nella cassa, per forza! Ok! Comunque secondo me siamo già a metà di gioco Ricky ho bisogno di audio No no lo vedi Sparaci sparaci dai sparaci Vedi senti afferito Vedi senti afferito No non penso Mi sembra Quanto mi sono venito un altro E questa la porta Se volete lasciare un saluto scrivete ragazzi che vi rispondiamo Ah giusto il problema è che ora dobbiamo fare di nuovo tutto il giro Quanto abbiamo qua di spazio vediamo Vabbè dai tre spazi Vediamo cosa c'è dentro Ah forse qui c'è l'altro medaglione Guarda lo trovi Ma io non lo rip abortioni Bo E accendere da noi Programma Andiamo da una cosa a Nicola su Instagram Non è Nicola forse nuvitti Ma io poi devo dice that' tipo Ma è che è una cosa esabolita Si fa Finalmente! C'è ancora roba? Che altro deve prendere? Intanto c'è ancora roba qua No, qua la tasseria Se vuoi che lo chiedisci? E io pure Ma che incontri ha? Eh, che facciamo? Andiamo a... Vabbè, non devo depositare niente in realtà In caso ho le cartucce, però poi devo fare tutto il giro No, lo ho qua la porta Andiamo direttamente No, no, vai scendi Abbiamo la porta qua Speriamo che questo medaglione ci va Va qua se ci va? Sì Minchia No, Dani, questo medaglione va messo in quella porta, in quel canicello Dove c'è uno spazio vuoto a destra, quello di poco fa Sì, ma siccome c'è pure questo uguale che va la... Dov'è vero? Ah, dice tu Una vale l'altra Invece no La camurri è che sta porta la vedi? Sono in andata Non si può più uscire di qua Dobbiamo fare più di nuovo tutto il giro Eh scusa, cioè non devi andare... Doveri prima Sì No, dovevo passare quella porta ora Sì 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 Ah ok, da bugissimo, non è male Ah ok, non ci viene Non ci viene Ah, che buco Eeeh Vieni ai al guardando Vieni a guardare Questo Ci portiamo il pompa E lascia il lancio granate? Eh Massi dai che c'è qualche appagliettino in piedi Devi lasciare il lancio granate e riprendere lo zetto, dai Sì Devi lasciare il lancio granate e riprendere lo zetto, dai Ma è al massimo carico questo Sì Sì Ma dico Dani Sì Eh lascia tu Sì no, ora lo posso Dimaniamo così? Eh no Adesso che ci sei, sì Ho la speranza che quei cosi con il fucile a pompa Invece nel fucile a pompa perchè non vuoti il fucile a salto Questo E vabbè che cambia, è uguale Eh no, cambia che quello spara Il colpio al momento E poi forse lo puoi caricare di più Dani Sì 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 Andiamo, let's go Sì 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 Ok, è venuto così Vabbè Sì Sì Non ho più colpi del pompa Sì Non ho più colpi del pompa Sì Sì Ma non posso caricare o non posso far? Non posso caricare o non? Ehi 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 Ma che, non ho più colpi ma che è felice No, non posso Non è un po' Rai un po' Non è un po' Certo io mi auguro che qualcosa sia morto per sempre mi piacerebbe ma che giro dobbiamo fare ci siamo lasciando il medaglione a quella stanza che c'è le due cose il medaglione che dovremmo lasciare ora quello che non si chiama il ceto metallico li lasciamo tutte e due e vediamo che qua c'è sta porta ma sono tutte e due uguali come non è necessario questo è l'altro non sono uguali con questo che ci devo fare questo è quello che devi mettere là dove hai visto quella porta poco fa questo? si sicuro Gris? secondo me si scusa ma non hanno la stessa forma danny ma si vede che uno va messo là e uno va messo qua quindi quello che va messo qua ancora lo devi trovare no Gris ma io prima io prima questo l'avevo messo qua mi ricordo no me li porto tutti e due Gris non vorrei che aspetta torni indietro e non va a riprenderlo ok allora dove dobbiamo andare dobbiamo scendere io devo tutto in giro non posso scendere il messale 8 volte siamo passi di tappo e dai vabbè 8 e 1 a 9 7 e 1 a 9 non ciò ma quel posto 1.830 è veramente il rischio e magari io si chiamo Fragu Riki fai piano Riki fai piano Fragu Uuuuh, ralifichi Gesù Bevo un po' d'acqua Prendo una patatina e me la mangio Prendo una patatina e me la mangio Ma non era quella? Era la citazione Era la citazione che portava nel giardino Ah, arrivavate lì Mi sono confuso Cosa non ti piaccio? Che patatina Sì Allora, tu dicevi che questa andava là Vediamo Invece è lo stesso Non vedi? Non lo so più senso Chissà dove va Non lo so più senso E che cosa hai fatto mettendolo lì? Stai montando a te Ho aperto sta porta Perché il vento è chiuso Dai Allora io mi devo ricordare dove dobbiamo andare però Giardino Giardino Dai c'è il resto di qua Ma c'è il resto di qua Ma nooo Però la batteria non va di qua No Via dell'acqua Via dell'acqua Mi porta via degli astronauti No 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 Ma qua già c'eravamo stati Si ma la batteria va qua Vabbè No Io mi ricordo che la batteria andava qui Vabbè Tu li deve saltare Vabbè Vabbè Questa viene l'elettronave Ci veniva la serie di botte Ma stai Ci veniva la serie di botte Ma stai Ci veniva la serie di botte Viene l'elettronave Vabbè Come ci vado? Forse è quella la volta Non è neanche questa Se li stanno uccidendo Ma come ci vanno i babbaluci Se potrebbe Mai mangiare E da quella parte come si ci va? Anzi è piccolino già Qual è quella porta? Quello là a sinistra a basso Ma non è quanto si vede che si non è? Sicuramente ci sarà un accesso Vedi che c'è tipo il similio ascensore lì Ma... Eh ma io mi ricordo che stas c'era una cosa dove andava la batteria Ma che è qua? Non ti augurati Sì Non ci vediamo Non ci vediamo Veleno Non c'ho il veleno Non c'è il veleno Non ti vediamo Si Non c'è il veleno Non c'è il veleno Non c'è il veleno Che fa il veleno? Buoglio con il veleno Bu Io penso quelli si Lo passo del tempo è peggiore ma perchè non si è andato a scendere? eeeh ma non mi ricordo, senti che sono avuto mi sono perso quindi in casa lo lasciamo morire e prendi l'altra strada prendi vediamo eh sì, qua si può provare eeeh 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 e ti prendi l'erba blu per cogliere il verano? eeeh 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 questa batteria dove cazzo va? eeeh 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 pe main ero eeeh 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 la gestione auto la marcia si è stata la maria per il monte maggiore si chiama il monte maggiore il monte maggiore la polizia ma in realtà si ci sono stati eeeh devo farciare la botta ok questa è la via del grazie ok dove va sta batteria ora ecco 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 via devo tornare forse nella stanza quella bloccata del serpentone e scendere da lì non sto lì, andiamo non sto lì, andiamo La stanza del serpento non è là. Vuoi scendere dall'altro ascensore? Eh si, vorrei provare così. Ma in quelle stanza rosse che cosa c'era da prendere? E' stata ancora rossa. C'era qualche erba, se poi ci possiamo passare, dov'è? Tutti, sempre lei. Perché non vorrei che c'è qualche medag...cavolo. Vabbè, ci posso passare. Non vorrei che c'è qualche...c'è l'altro medaglione, magari. Anche quelle altre tue stanze, vedi che sono rosse. Secondo me ci dobbiamo passare perché... Dobbiamo trovare l'altro medaglione che va messo in quel cancello. C'è un po' Bu, ora vediamo. Ma devi vedere se nel baule non lo abbiamo visto. No, no, nel baule sicuro non c'è. Ma non c'è un po' E poi ci voglio sempre ricerci. Ci volevano andare. Ogni volta a qualcosa di un po' Delle vostre poste dicevo, sono molto interessanti. C'ho mangiato una volta. C'è un po' che una volta ci ho mangiato. E com'è? Sono panini, così qua. Panini? Sto parlando di colleghi di.. di dodici anni fa. Ma dove? A Sol Leone? No, è una panineria che c'è in via Villa Grazia, in alto, quasi Villa Ciandra. Ma questa zona l'abbiamo fatta. Ehi! Ma vedi qua che cosa c'è? Vedi che è rosso. Che c'è? Secondo te è tipo questo cilindro qua che c'è sulla destra? Che c'è fatto, us do the queen, don't dance. Che cavolo! Panetteria, lotti da forno, servizio domicilio, telefono, 0123, 06. Ehi! La scrittura! C'è ma bu, io non lo so, non lo so. Ma io qua non vedo niente però. Ma che ne so? Mi sa che sto vedendo la zona scrittura. Eh però, il gioco dice che c'è dovuto raccogliere qualcosa. Bu, ora intanto vediamo questa. Dove ti sto portando? Non c'è una cosa tipo... Ma forse è giusto. Ah che è simpatico. Sì! 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 Vabbè c'è sta il be... Ah questo è che era... Perché ora tipo è... È la stessa stanza e quindi me la dà rossa per questo. Vediamo. C'è la... Chiaro? Eh sì, prendi... prendi quell'erba. È rossa? Non c'è questa destra. Stop! Beh che c'è questa è la mabru può essere? No questa è che te la curi e basta. Stop! Ahahahahahahahahahahahahahahahahah Questo è un bambino. Questa è una bambino. Ma poi si chiudono via bene, è giusto? Via qui? Ok, da bambini. Sì 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 Ma hai fatto anche una volta? Vaffan di Sì 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 Ridi tu C'è da ridere Voi una sonza più piccola Voi una sonza più piccola? No, ho preso tutto Ho preso tutto,Crick Andiamo alla sinistra e scendiamo Perché è la destra dal rosso? Perché ho messo il medaglione Siamo fuori, saliro, saliro, saliro Siamo fuori, saliro. Siamo fuori, saliro, 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 saliro. Quella ho tutte le nostre spalle questa si mi ricordo dove va sto cazzo di batteria non ti sa aiutare non ti sa aiutare non ti sa aiutare si ma qua dove siamo andati non ti sa aiutare non ti sa aiutare oh noo la la oh no 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 ok qua no perfetto e cazzo è ca questa chiesa com'è i vippe e qua la cassa Nooo Invece non c'era l'edificio che va E gli proteggeranno le sisiglie per l'uggetti Ma si, quello non ci va sto megaglione Che fatta Ehi Sotto qui, in questa casa Oh Che è successo? Non so sta minchia di medaglione dove va Qua intanto tutto abbiamo fatto L'edificio Là sopra c'è un ascensore Villa B1 Come si ci va? Quella è a scala lì a sinistra Forse C'erano le tizie che entravano Eh Sali Salirò 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 Tra le note di questo giardino Tutte le tazzo Ma si Ah che si... Ma si ha fatto un posto biggest Molto senti che me l'ha lamentato Non ci decido altro non è Allora questo Qui a destra è dobbiamo prendere solo erba, vero? Aspetta che io mi sono voluto distrarre perché dai la spalla. Mi stavi dicendo? In questa stanza di là solo l'erba c'è da prendere e basta. Non lo so, io avrei raccolto tutto per vedere se spariva il lampeggiato. Questo è lo scivolo. Non lo so. Allora? Lo fareci qua il numero uno. Peppi! Questa è? Questa è un numero uno? Sì, ma così. Un paio di quattro. Da lì io comincio ad essere un pò... Eh sì no, Cristo sta staccando infatti. Dato Cicci. Io vorrei sto disco. Pagni della polizia. Cosa? Eh, eh, cos'è? No, c'è un po' di fattura. 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 Questo medaglione però lascio qua perché non lo sappiamo. Se lo fa. C'è andiamo! Non più! Non più! Va bene, buonanotte ragazzi. Buonanotte a tutti. Alla prossima! Alla prossima. Grazie a tutti.